Sì, infatti Ragazzi, una cosa, ma ci si può muovere? Un rovedo Qui, ragazzi, io lo sento qui Guarda che io sono un genio, ragazzi, io sono un genio Non c'è niente da fare Ma perché, scusa, quell'oggetto dovrebbe stare Sopra quell'altro oggetto È proprio questo il divertimento Raga, in questo video sono con il mio team di Fortnite Zerby, Kapp e Mattis Per giocare a nascondino in una mappa Veramente, veramente fighissima È piena di oggetti e piena di posti in cui nascondersi Quindi sarà una partita fantastica Ma prima vi ricordo, coach e supporto a un creatore OTPFI nello shop Mi raccomando, iscrivetevi che siamo quasi arrivati ai 400.000 iscritti E soprattutto, seguitemi su Instagram OTPFI Detto ciò, ragazzi, siete pronti? Tutti pronti, siamo pronti Mega pronti E allora avviamo Ok, aspettate un attimo, io ho 7 minuti per trovarvi E poi c'è il ping Ok, io non so perché ti dico subito che ho molti colpi di tosse in questo video Te lo dico subito Raga, mi sono nascosto in un posto bellissimo Anch'io, anch'io Ragazzi, vi mettete curiosità, non ditevi queste cose Comunque, 10 secondi e vi passo a trovare, ragazzi Non è che vi passo a trovare, inizio a cercare Perché non è un paolo 10 secondi e vi trovo Poi inizio a cercare anche magari dopo Va bene, vediamo, vediamo Allora, OTPFI, te lo dico Dimmi Non ti chiedo di dirmi dove sei Però dammi un indizio Ti vedo, ti vedo Zerbi, 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 Zerbi Zerbi, no Sì, sì, sì OTPFI, dammi un indizio Prima ti vedevo, ora non ti vedo più Ok, quindi ora mi vedi? Eh, chi lo sa Ma scusa un attimo, eh Ma c'è una papparella enorme qui Non sei OTP, sei qui Porca miseria Ma dove cacchio sei? Ma OTP, che ti sei spostato? No, sempre Sono sempre fermissimo Tono, certo che ti sei spostato Ho la prova a video Ho la prova a video Oddio, raga Oddio, oddio No, in realtà non io l'avvicino Porca miseria Ma dove cavolo sei finito? Ma io ho sentito Da qualche parte il ping qua vicino OTP, un altro indizio Io sono un oggetto che di solito La gente non è felice di vedere Vi dico solo questo Un oggetto che la gente Non è felice di vedere Esatto Ma potrebbe essere un sacco di oggetti Per esempio Non sono felice di vedere Zerby Anche il discorso Ma lui non è un oggetto Zerby è felicissimo di vedermi Ma scusate Ma tu sei entrato e uscito praticamente Non sei manco di vado Ragazzi Capo mi ha appena corso davanti Qui, tu sei qui Esatto Sì No OTP, vai tranquillo 50 secondi OTP, è che dove sei? E io ti avevo visto prima Ti avevo visto prima Ma non sei al chiuso Ti ho detto Ti ho detto Che sono un Ah sì Tipo O, 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 o OTP, ma tu non sei al chiuso No, non sono al chiuso Sono un oggetto che la gente Non è felice di vedere Sì, ma mi avete dato Indizi sbagliati allora Ma io ti ho detto tutte le cose Ma non è vero Ma ti ho detto Esatto Raga, raga, raga Ma avete visto? Ragazzi Adesso sono proprio curioso Di vedere dove cavolo eravate Scusate un secondo Dov'è Octi? Ragazzi, dov'è Octi? Cap, torna indietro Ora te lo dico Torna indietro Vai Ancora E trova qualcosa Che nessuno sarebbe felice di vedere La gru? No, una pattuglia di polizia Tei la macchina E ti dico di più Volavo anche Guarda bene Guarda che volo Guarda che volo Ragazzi Non ci credo Vabbè, complimenti, complimenti E beh, dai L'ho pensata bene L'ho pensata bene Raga, parte la sfida Avete 5 secondi per lasciare like Dai che ce la faremo 5, 4, 3, 2, 1 Cap, cap Hai visto cosa sono io Cosa sei? Guarda, mi sono Sono all'ottosinistra Ma Matti Occhi, 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 sei un genio Occhi, sei un genio Occhi, sei un genio No, no Oh, voi Voi Siete tutti qua Io lo so Ma Matti Perché stai camminando lì dietro? Oh, basta Viene il vicino Io ho un po' di paura Te lo dico Io ho un po' di paura C'è qualcuno è nascosto Qualcuno è vestito da marionetta Tipo Questa marionetta Di che marionetta sta parlando Esattamente Matti ha cambiato la persa di vista Matti Sì Infatti Ok Ma io Matti Allora, in questo momento Te esattamente dove sei? Qui E c'è qualcuno qui Ma dov'è qui? Scusa Esatto Dov'è? K Sei d'accordo che il nostro nascondiglio è perfetto? È top Top È perfetto Ovviamente codice OTPFI raga per nascondigli del genere Ragazzi Io vi sento qui nel campo da basket Vedo Ma dov'è il campo da basket Matti? No, infatti Ma poi infatti Non capisco neanche di cosa stia parlando Matti Matti Ma te non sei mai andato dentro? No, ma infatti Stavo per un po' Andando a trovare Octi che dice che ne vede due E io da sta visuale ne vedo due Io sono all'aperto Eh vabbè Anche io sono all'aperto ragazzi Siamo tutti e tre all'aperto E ti dico di più Io e Cap siamo anche vicini Voi siete all'aperto? Octi Octi mi sa che ti sbaglia Ah è vero è vero È Zerbi che è vicino a me Voi siete all'aperto? No, ma non sono io Ragazzi sto scherzando È oggi che vicino a me Tu lo vedo Qui Ragazzi io lo sento qui il ping No, perché io sono un genio Ragazzi io sono un genio Non c'è niente da fare No, eccolo lì Sì Sì No Non ce la facevo più Ti giuro Mi stai facendo impazzire Mi stai facendo impazzire Ora non mi resta che trovare Cap Io vedo un bel cannon No, 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 no Ragazzi vi do un indizio assurdo Ok Non sono travestito Allora ragazzi potete venire nel posto in cui spawnano le guardie Sono in quello stanzino lì E dove cacchio è il posto di spawnare le guardie? Scusate un secondo Ma dov'è? Vieni in lo stanzino Ragazzi quando Cap è respawnato Anche Olti non avete portato l'anca alla destra dell'albero Io mi ho accrociato No, no, no Non ci credo Non ci credo È vero Non ci credo 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 No però raga Avevamo detto che non ci si può muovere No, no, no Non va bene questo Ok Io ce l'ho Io ce l'ho Anzi, aspetta meglio questo Io ormai sono qui Ormai Dove sei Olti? E ti vedo Ok, ok, ok Perfetto Ti vedo anch'io Raga Matti sei iniziato a cercare Oh, 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 oh Let's go No, ti me l'ho venuto in mente adesso Un ascodiglio incredibile Allora dopo lo proviamo Zerby Prima mi è passato Attaccato Zerby Cerca di capire Ma io sto sparando da tutte le parti Perché sento tipo qui sul muro Zerby Smetti di parlare Guarda io te lo dico Zerby Ti vedo Però sei molto lontano dalla mia visuale Molto lontano Ok Stai sparando di continuo a un muro Faccio il tuppino qui Io vi dico due cose Primo Zerby è passato attaccato a me E mi ha sparato pure Secondo Matti Mi è appena passato vicino Ma dove sono? Davanti a me raga Era proprio davanti a me Stai sparando da tutte le parti Ma ti rendi conto che non li trovo? E qui Io lo sento Ma anch'io sento il ping sul muro Ma ho sprattato Ma poi lo senti l'altro ping qua sulla porta No 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 Fermi 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 Raga adesso Ragazzi Io vi vedo in lontananza Vi vedo in lontananza ragazzi Vi vedo in molta Grande lontananza Ragazzi Occhi qui Ti sei nascosto Ma è come Eccolo E' qui Ma come? No Occhi Ti è trovato Ciao No Occhi Ma dove è Occhi? Ma dai Ma è diventato una Una cosa No Ho colpito qualcuno Non so chi Dov'è? Ho colpito capo Dato che c'è Ho colpito capo No è invisibile Capo è invisibile Ma dico io Non stai attento a dove spari Almeno capisco Ma noi spara a caso Cioè mi guarda quando spara Con la raffigata Ho colpito il muro Fermi 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 ti giuro che qualcosa Ha parato il tuo proiettile Io non mi posso dire dove è grande Ti ha parato il tuo proiettile Ah ma mi do ancora L'hai ripreso Aspetta Eccolo Ma cap Ma ti sei ritrasformato Ma per che sei ritrasformato Per tornare normale Ragazzi No Occhi No No Porcacchio Cap c'è un problema Io mi sono incastrato In un posto introvabile Come in un posto introvabile Dove sei Occhi? Arrivo Qualca miseria Matti è già partito Ok Matti te lo dico È un problema Allora ti do un indizio Ma Occhi te dove sei scusa È in un posto Strano Introvabile Ok Va bene Vi dico solo che vedo Matti Bra Mi sono incastrato Occhi sei un genio Occhi sei un genio Ma perché scusa Quell'oggetto dovrebbe stare sopra Che un altro oggetto È proprio questo il divertimento Ma per quale motivo scusa Va bene ho capito Ti dico solo Che sono un oggetto Che non dovrebbe trovarsi Lì dove si trova in questo momento Ecco nemmeno io dovrei trovarmi Dove mi trovo forse Ma tu mi vedi da lì Sì Con una visuale strana ti riesco a vedere Sì sì ora per esempio ti riesco a vedere Perché Occhi Occhi Indizio qualcuno è all'interno Occhi torna normale Occhi No Cioè ragazzi siete tutti all'aperto Ma no io sono all'interno Che cosa dico No io ho all'interno Matti sì sono all'aperto Però ti devo dire la verità Te Matti Non ti posso diventare Che sono te Matti Cap 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 Vai Guardami Ma ti sei bellissimo Veramente Tipo sul cespuglio Che cespuglio Matti Ma perché cespuglio Matti te lo dico Sono una cosa molto sporca E già Ma sei qui in zona mi vedi Matti mi sa che sei dentro Raga No perché non ti vedo Raga Questo è il nascondiglio migliore Che ci possa essere Però non ti vedo da vicino Dai dai Matti ma trova me Sono il più facile da trovare Matti Occhi quando lo vedrai direi Ma com'è possibile che non l'ho trovato Raga Cioè io Io Sì Sì A ogni cosa Allora Matti Io te lo dico Dagli degli indizi per me No Dagli degli indizi per me Esatto Da questa visuale vedo opti Ok Te lo dico È così Da qui lo riesco a vedere Così Vado dritto La visuale è ampia Oh mio dio Oh mio dio No ho sbagliato Ragazzi ha detto vado dritto È andato verso l'Everest Cap 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 Se mi faccio vedere prometti che non mi uccidi Va bene va bene dimmi dove sei fai No no tu mi fai uccidere vado No non ti uccido Vieni da me vieni qui Vieni Eh grazie Eh vieni da me Esci esci riesci Eccolo Eccolo ragazzi No Ma solo perché mi sono trasformato Ma tu hai visto cos'ero Ma tu hai visto cos'ero Mattiz Mi hai visto Mattiz Mattiz Le Levati da dentro Mattiz ti do questo inizio enorme Ma Non è dentro Io te lo dico Per trovarlo per velocità Ci ho messo veramente tanto Perché non capivo dove cavolo era Sembrava un plankto Un po' Il capito Ok Mattiz Guarda il cespuglio Guarda il cespuglio Guarda il cespuglio Guarda il solito Spara il cespuglio Spara il cespuglio Continua a sparare Ma guarda tanto Mattiz Continua 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 Ma quant'è tu Oh Ma è andato via Ma come è andato via il cespuglio Mattiz Non te ne sei accorto L'avevo visto Ma ti sei andato via il cespuglio Non te ne sei accorto Ma quanto è piccolo Io l'ho preso Io l'ho preso Ma dai Ma che cos'è stano Non ci credo Non ci credo Ma che cos'è quel coso Genio Genio È incredibile Raga ditemi Chi secondo voi è stato Colui che si è nascosto Nel modo migliore possibile Ragazzi Voi lo sapete bene Che con Cap Zerbi e Mattiz Abbiamo dei progetti enormi Per quest'estate Proprio per questo Ho creato un nuovo canale Dove ci saranno Tutti i video Nostri insieme Che non riguarderanno Fortnite o il gaming In generale Ma tutt'altro Quindi mi raccomando Iscrivetevi Perché ci saranno Delle sorprese Enormi